Il bicentenario del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato ricordato anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Nei locali del teatro della casa circondariale di Via Madia, autorità militari e civili si sono ritrovate per ricordare l'evento e al tempo stesso discutere della situazione attuale delle carceri, con particolare riferimento a quelli di Messina Gazzi e della città del Longano. Un'occasione per sottolineare il ruolo e i compiti della Polizia Penitenziaria nel panorama dell'amministrazione giudiziaria italiana. È un'occasione importante di riflessione su quello che significa lavorare in un settore così delicato qual è quello dell'area custodiale in ambito carcerario, tenuto conto delle nuove competenze che vengono richieste appunto alla Polizia Penitenziaria che non sono più quelle della mera sorveglianza ma di una piena partecipazione ai percorsi di riabilitazione dei detenuti che ci sono affidati. Inevitabile una riflessione sulla situazione attuale del carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto. Il problema di Barcellona è che, come ovviamente voi ben sapete, è stato fino a qualche mese addietro una realtà in larga misura sanitaria. è stata riconvertita in casa circondariale, è un processo sicuramente lento, richiede naturalmente una forte attenzione da parte dell'amministrazione ma in genere direi da parte degli organi politici circa la dotazione di organico e quindi in corso una protesta da parte della Polizia Penitenziaria che naturalmente trova la sua giustificazione in questo senso e naturalmente l'attenzione alla struttura perché evidentemente va adeguata alle nuove necessità che sono naturalmente di un'accentuazione della componente della sicurezza.